Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Gli xenomorfidi Alien e gli Yaucha di Predator sono due degli alieni più famosi e riconoscibili della storia del cinema. Come ben saprete, queste due letali e pericolose specie si sono incontrate in due film crossover, ossia Alien vs Predator e Alien vs Predator Requiem. Sono passati un po' di anni da questi film non apprezzati da tutti, ma ora, grazie al successo di Prey prima e di Alien Romulus dopo, si sta tornando a parlare di un possibile nuovo Alien vs Predator. Ma quante possibilità ci sono che un nuovo crossover arrivi realmente al cinema? Vediamo di scoprirlo insieme. Prima di iniziare, come di consueto, vi invito a seguirmi sui social, basta cercare Lorenzo Divus su Instagram e TikTok. Partiamo dalle ultimissime novità, ossia da Alien Romulus. Il film sta andando bene al botteghino. L'interesse per gli xenomorfi è salito di nuovo, anche perché poi uscirà una serie TV su Disney Plus denominata Alien Earth, quindi Alien Terra. Dovrebbe essere ambientata prima degli eventi di Alien e anche di Prometheus, magari ne parleremo in un video apposito. Ad ogni modo, si è tornato a parlare con forza degli xenomorfi. Dei Predator si è parlato un po' meno di recente, ma con Prey, appunto, film uscito direttamente su Disney Plus un paio di anni fa, i nostri amati cacciatori hanno avuto anche loro un po' di nuova attenzione. Ed ecco che Fede Alvarez, il regista di Alien Romulus, si è definito interessato e disponibile a dirigere un Alien vs Predator insieme a un suo caro amico, ossia Dan Tracenberg, colui che ha diretto proprio Prey. Ecco le parole di Alvarez. Un Alien vs Predator è qualcosa che forse dovrò co-dirigere con il mio amico Dan. Forse dovremo fare come Tarantino e Robert Rodriguez hanno fatto con Dal tramonto all'alba. Io ne dirigerò una metà e lui l'altra metà. Insomma, Alvarez ha un po' messo la pulce nell'orecchia ai fan, coinvolgendo appunto il suo amico Tracenberg per un possibile film co-diretto e diviso in due, dedicato proprio ai due superalieni. A Deadline, Alvarez ha inoltre dichiarato che la realizzazione di un nuovo Alien vs Predator dipenderà da quanto bene andrà al box office Alien Romulus e se la gente vorrà effettivamente vederlo, questo nuovo crossover. Al momento Alien Romulus sta andando piuttosto bene, a livello di critica ci sono pareri contrastanti, ma comunque il botteghino sta incassando. Gli Alien vs Predator sono piuttosto attempati ormai il primo del 2004 e il secondo del 2007, quindi sono passati praticamente 20 anni, ma forse il contesto è quello giusto per riproporre questo scontro all'ultimo sangue. In sintesi possiamo dire che un nuovo Alien vs Predator al momento non è da escludersi, non c'è ancora niente in ballo, nessuno ci sta lavorando, però insomma le pedine si stanno mettendo in posizione. Spendiamo ora un paio di parole su Alien vs Predator all'interno dei due franchise. Sappiamo che entrambi i franchise, essendo ormai piuttosto datati, hanno tanti film al loro interno e a volte è un po' difficile orientarsi sul canone. Al momento Alien vs Predator e Alien vs Predator Requiem non sono considerati canonici né in Alien né in Predator. Sono degli spin-off, sono una cosa a parte e questo può giocare assolutamente a loro favore. Nel senso che non serve per forza che si ricolleghino nel profondo a quello che abbiamo visto in Prometheus, in Covenant e appunto in Romulus per quanto riguarda Alien, ma nemmeno a quanto abbiamo visto negli ultimi Predator. Sono dei film che nascono ovviamente anche sfruttando il fascino delle due creature, ma che a livello di lore non serve andare a caratterizzare così tanto. I due film Alien vs Predator e Requiem erano ovviamente collegati tra loro, quindi lì c'è un piccolo universo condiviso che si era sviluppato in una determinata direzione, volendo un terzo film si potrebbe andare a inserire proprio all'interno di quell'universo condiviso. Come dicevo prima sono film un po' attempati, quindi magari qualcuno di voi o non li ha visti o non se li ricorda bene. La trama era molto semplice, i Predator organizzavano ciclicamente delle cacce agli xenomorfi sulla Terra, questa caccia si svolge all'interno di una piramide situata al Polo Sud, queste cacce sono una sorta di rito di passaggio per i giovani di Auccia che intendono appunto raggiungere l'età adulta dimostrando il proprio valore. Vi è coinvolta una regina degli xenomorfi che andrà appunto a deporre delle uova, verranno poi portate al cospetto delle uova degli esseri umani che verranno infettati dai facehugger dando origine appunto agli xenomorfi. Fatto ciò i Predator cominciano una loro battuta di caccia utilizzando il loro classico arsenale, insomma il plasma caster, le reti, armi bianche eccetera. Il cacciatore che riesce ad arrivare vivo alla fine e può mostrare agli altri i suoi trofei, varie teste di xenomorfo eccetera, viene appunto accolto nel clan come un vero guerriero, un grande cacciatore. In Alien vs Predator Requiem abbiamo visto qualcosa di un po' diverso, perché lì compare il Predalien, l'ibrido nato dalla fusione di uno xenomorfo con un Predator. Questo Predalien si scatena in una piccola cittadina americana a seguito dello schianto della nave spaziale dei Predator, comincia a creare dei nuovi xenomorfi. Lui è una specie di comandante, quasi direi degli xenomorfi, finché non interviene un grande cacciatore Predator, noto come Wolf, che prova a sistemare la situazione. Poi alla fine succede un caos enorme, la città viene nuclearizzata e tanti saluti al Predalien, agli xenomorfi, al Predator eccetera. Quindi i vari film hanno intrecciato la lore di entrambe le saghe, sono usciti anche dei videogiochi dedicati ad Alien vs Predator, dei fumetti, ci sono dei fumetti in cui Predator hanno affrontato anche gli ingegneri visti in Prometheus, quindi per carità, se si tiene tutto questo filone separato dalle rispettive saghe, si fa un universo condiviso in cui divertirsi e lì i vari Fede Alvarez eccetera possono volendo mettere un po' chi vogliono. Magari appunto anche gli ingegneri. Sarebbe figo vedere i Predator che si scontrano con i xenomorfi, magari anche gli ingegneri, gli umani, insomma, una tamarrata senza fine. Sono film volutamente tamarri, non sono film filosofici, non sono film che hanno quell'elemento Lovecraftiano che aveva il primo Alien, quelle suggestioni filosofiche di Prometheus, sono molto più film d'azione puri e crudi in cui c'è un mostro cacciatore, un alieno inarrestabile, gli umani che finiscono il fuoco incrociato, magari qualche ibrido come il Predalien, si guardano abbastanza a cervello spento. Ecco, Alien vs Predator Requiem si faceva fatica a guardare perché l'80% delle scene è incredibilmente buio. Ma con Alvarez e Tracenberg la regia dovrebbe essere buona, quindi potremmo aspettarci qualcosa di buono anche dal punto di vista proprio delle immagini che sono molto importanti in un film di scontri, di battaglie. Non è facile dirigere bene delle lotte corpo a corpo, soprattutto tra due mostri, ci vogliono di registi competenti. Prey da questo punto di vista funzionava, c'è quella bellissima scena in cui il Feral Predator combatte i cacciatori nel bosco bruciato, che è davvero molto molto scenografica. In Romulus ci sono delle buone sequenze d'azione, insomma potrebbe potrebbe venire fuori qualcosa di buono. Concludo il video dandovi la mia opinione personale sul fatto di fare o meno un nuovo Alien vs Predator. Secondo me vale la pena farlo. Sono passati appunto tanti anni da quelli vecchi. Si potrebbe comunque fare qualcosa di arrogante, un po' trash, ma allo stesso tempo magari con una trama, magari con qualcosa di superiore rispetto agli altri due film. Insomma, potrebbe uscirne qualcosa di divertente, un blockbuster dove questi mostri si danno cartelle, non particolarmente diverso da altri film di mostri come Pacific Rim. Non vai a cercare chissà quale filosofia, cerchi due creature che se le danno. Se vorranno fare un film così, con questo spirito, allora ne nascerà qualcosa di divertente e apprezzabile per chi cerca dell'azione. Magari i fan più puristi di Alien non saranno soddisfatti, ma è un film che mira a un pubblico vasto, anche solo a chi vuole vedere dei buoni combattimenti. Bene signori, fatemi sapere adesso la vostra opinione in merito a questo nuovo possibile Alien vs Predator. Secondo voi si farà? E soprattutto, vi piacerebbe vedere un nuovo Alien vs Predator con Alvarez e Tracenberg coinvolti? Fatemelo sapere qui sotto nella sezione commenti. Qui sul mio canale trovate altri video a tema Alien, Predator, sbizzarritevi, ce n'è davvero per tutti. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale perché non attivate la campanella. Se volete supportare le mie creazioni potete farlo attraverso la funzione abbonamenti oppure super grazie direttamente su YouTube, in alternativa a PayPal e TP, link in descrizione. Vi invito ancora una volta a seguirmi sui social e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!